Bene, eccoci di nuovo in diretta nei nostri studi di Brescia TV per motori a 360 gradi, ve li ho presentati prima, è un'amica perché purtroppo lei ha avuto il dispiacere di portarmi in macchina con lei, però devo dire che guida veramente veloce, è la nostra amica albanese Valentina, pilotessa della SEAT che quest'anno ha voluto coniugare con Yokohama e quindi purtroppo dobbiamo ripresentare Pezzaioli perché è un amico anche lui di questo bellissimo matrimonio. Allora, tu so che ti sei divertita a battere anche i ragazzini, i piloti perché sembri gentile però quando vai in macchina sei una belva, ti trasformi come tutte le donne. Beh, è normale che sia così, insomma quando poi alla fine ci mettiamo il casco non conta più se sei donna, uomo, giovane, meno giovane e tutti in realtà vogliamo la stessa cosa, arrivare alla fine prima di tutti gli altri e quindi vincere. Nel tuo Palmarès c'è un campionato italiano nel 2009 Gran Turismo, c'è, beh, volante rosa su quello, non c'è discussione, qual è stato il tuo approccio col mondo in pista? Tra l'altro tu hai fatto anche un rally nel deserto. Esattamente, esattamente, ho avuto questa divagazione dalla pista addirittura alle dune, è stata un'esperienza meravigliosa. E per la tua navigatrice? Un po' meno, no non è vero, anzi per la tipologia di rally che ho fatto io era forse più importante il suo ruolo rispetto al mio, quindi in realtà sono io che devo dire grazie a lei anche perché l'abbiamo anche vinto, quindi insomma è stata una bella esperienza. E che cosa mi ha portato a correre? Ma in realtà la mia storia è un po' una favola più che una storia, perché io non ho tradizione familiare, al contrario di tanti amici e colleghi piloti. Io avevo solo una enorme passione per le macchine e sognavo di fare il pilota, ma questo quando avevo due anni, insomma qualche tempo fa. E così ci sono riuscita solo perché ho vinto un concorso per una famosa rivista di automobilismo e da lì sono partita. Da lì è partita la mia fortuna, ho trovato tante persone che hanno creduto in me. Ultimo tra tutti il team manager di Seat Motorsport Italia, che è Tarcisio Bernasconi. E da quando in realtà sono sotto la sua ala protrettice, ho vinto tutti i miei campionati più importanti. Tu è ben a scuola in Seat, però hai il pezzaglione di Yokohama. E non è poco, eh? Non so se è vantaggio. E non è poco. Giuseppe, anche tu quest'anno hai messo un'altra coccarda al tuo palmarès di motorsport di Yokohama, perché sei sempre a ricerca di discipline importanti con grandi campioni che danno visibilità a un brand importante come Yokohama. Sì, in effetti quest'anno abbiamo potuto equipaggiare tutti i campionati Seat, le Ibiza, le Leon, e anche avere la collaborazione con Valentina per il Cite, per il campionato Cite, perché ricordiamo che Valentina correva nel campionato Cite, perciò Endurance. Per questo sono molto orgoglioso. Lavorare con una casa così importante come Seat è veramente arricchente, perché ti confronti con delle realtà differenti, ti dà la possibilità di affrontare i problemi e crescere. Per questo è molto importante per noi. Però Yokohama non si ferma solo alla pista, c'è l'ultimo appuntamento che chiunque... Cioè, il vicitore c'è già Trentin che è stato ospite, grazie che ci avete portato. Però noi tifiamo per il secondo posto, per Gigi Ricci, anche se qualcuno dice che il secondo posto è il primo degli ultimi. Grazie Gigi. Sì, è vero, difatti la gara stasera, anzi domani sono in Sardegna, c'è l'ultimo appuntamento, il Costa Smeralda, il primo posto è già stato assegnato, come dicevi tu, che è a Trentin, però in seconda posizione ci sono Ricci oppure Bjorgin, entrambi sono equipaggiati con Yokohama. È una gara, comunque la Sardegna è sempre molto difficile, perché il percorso è pieno di pietre, di pietre molto grosse, per cui è facile bucare. E se buchi poi perdi tutto, perché devi fermarti e cambiare, non riesci a uscire dalla prova se non hai cambiato il pneumatico, perché l'usura è talmente alta che non ci arrivi in fondo. L'importante è che Ricci abbia punzionato le gomme e non succeda come è successo nel Mondiale. Sì, sì, quello è vero, glielo ricorderò appena lo vedo. Ricordati di scrivere tutti i barcode sulla scheda. E invece, Valentino, il tuo campionato non è ancora finito. È finito, è finito proprio la scorsa domenica. Ecco, vedi, mi danno sempre informazioni sbagliate. No, scherzo, lo sapevo, ma come è andato il tuo bilancio? Beh, il mio bilancio è assolutamente più che positivo. Domanda superflua. Com'è? Domanda superflua. Esatto. No, è stato un bellissimo campionato, perché siamo riusciti a vincere al debutto di questa nuova vettura. Siamo arrivati all'inizio della stagione avendo fatto soltanto un paio di test, e peraltro tutte e due sul bagnato, per cui, sai, lasciavano un po' il tempo che trovavano. E quindi alla fine abbiamo cominciato con il coltello tra i denti dalla prima tappa. Subito la macchina si è dimostrata molto competitiva. Ma poi c'è stata la sorpresa che tutti i piazzamenti, le vittorie che avevamo accumulato nelle prime tre gare ci sono praticamente state azzerate, perché la federazione ha deciso di partire con un campionato italiano assoluto che aveva in realtà dimenticato di iscrivere dalla gara di Pergusa in poi. Questi federali, ragazzi. E quindi in realtà abbiamo dovuto ricominciare da capo, quindi da Pergusa è ricominciato un secondo campionato e alla fine ce l'abbiamo fatta anche soltanto guardando la seconda metà della stagione. Se avessero tenuto buoni piazzamenti dalla prima gara avremmo vinto il campionato con un paio di appuntamenti di anticipo. L'abbiamo vinto... Gli avresti dato il giro! Avremmo vinto proprio di grossa misura. Alla fine siamo riusciti a chiuderlo con soltanto una gara di anticipo, però è stata una soddisfazione fantastica perché veramente vincerlo al rientro di Seat nelle competizioni perché ricordiamo che Seat ufficialmente è stata ferma 5 anni quindi al rientro di Seat nelle competizioni con una nuova vettura, proprio nuova di pacca con un pilota che comunque era bene o male fermo lì parcheggiato da 5 anni insomma è stata una bella cosa. E poi insomma diciamo anche che Seat si è tolta la soddisfazione di vincerlo con un pilota un po' anomalo perché comunque sono sempre una donna e alla fine nel panorama del motosport siamo sempre poche. Hai battuto Ari Scalvini? No, Scalvini corre nel Monomarca un ragazzo molto molto veloce, mi piace molto però lui corre nella Leon Cup quindi non ci siamo mai scontrati. E Yokohama è il Leon Cup? Sì, 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 assolutamente. Le Leon Cup, come dicevo prima, Ibiza e abbiamo avuto la fortuna di equipaggiare le due macchine una e poi due congene per le Leon TCR nella categoria TCR che correvano nel Cite sì, il Leon Cup, devo dire che la Seat ha prodotto una macchina la Leon che è fantastica al di là della linea che è bellissima ha delle prestazioni veramente importanti un'erogazione di potenza impressionante gira sempre molto veloce addirittura l'ultima gara a Mugello giravano più veloci di alcune GT4 sullo stesso circuito per cui direi che il prodotto è azzeccatissimo ed è molto divertente di fatti tantissimi piloti tutti quelli che escono dalla macchina anche chi ha provato magari solo una gara si trovano veramente a proprio agio è comunque impegnativa una macchina perché è comunque una macchina veramente potente però si trovano molto bene il pneumatico che abbiamo utilizzato per la categoria Leon Cup e anche per Valentina è il pneumatico che stiamo utilizzando anche nel mondiale turismo per cui il top della gamma per quanto riguarda i pneumatici da competizione per una macchina che secondo me lo merita al 100% e poi ricordiamo che tutto il prodotto che Yokohama investe tra virgolette e fa testare a piloti come Valentina Albanese che ha vinto il campionato italiano poi il prodotto lo si trova sul guidatore della settimana come posso essere io sì effettivamente tutte le soluzioni tecniche che si inventano gli ingegneri per le gomme da competizione poi vengono traslate nella produzione ovviamente se sono vantaggiose altrimenti no perché non sempre riescono perfette però diciamo c'è sempre un lavoro continuo per migliorare le prestazioni e trovare soluzioni nuove che diano anche un minimo vantaggio ad esempio i pneumatici che utilizzano nella Leon Cup e nel mondiale sono arricchiti con l'orange oil che è uno degli elementi di derivazione naturale che viene aggiunto alla mescola per renderla molto più elastica la famosa arancia si esatto estratti dalla buccia d'arancia sono un ragazzo legato alla campagna quindi sono legato al territorio io ringrazio Valentina Albanese del suo intervento l'avremo anche ospite nella prossima stagione se sarai sempre gomata a Yoko Hama perché ricordi che qui il presidio di Yoko Hama io ringrazio Giuseppe Pezzaioli del suo intervento ma l'avremo anche grazie purtroppo anche nel proseguo della stagione perché la nostra amica Elisabetta ce la porta sempre due secondi di pubblicità giriamo un attimo perché parleremo di un brand importante Shopar finalmente si è svelato questo mistero e chi meglio dell'avvocato Piero Giorgio Vittorini presidente di ACI Brescia con il legale di Shopar può dare finalmente tranquillità a quanti sono appassionati di auto storiche che continuano a seguirci dopo pubblicità subito un'intervista e poi avremo altri ospiti a tra poco